Le gite a scuola, aspettative, quest'anno in gita andiamo a New York Realtà, quest'anno in gita andiamo... A New York? No, non ci abbiamo una lira, quest'anno in gita andiamo nel campo fuori la scuola Ma vaffanculo! Ah, allora, che cosa ne pensate? Prof, fa cacare, non c'è niente Ma dai, ma non ti piace stare all'aria aperta? Apri i polmoni, senti che è aria fresca Oddio, credo di aver visto un serpente Prof, mi ha morso! Prof, un serpente ha morso Gian Piero! Ok, di sicuro stai bene Gian Piero Oh cazzo Nooo!